Mi portate un Negroni, per favore, eh? C'ho una carogna sulle spalle oggi che deve aver mangiato anche pesante, non riesco a usarmi. Un Negroni! Grazie, eccolo qua. Negroni! Questo qua fa benissimo, eh? Uno fa bene, con tre si diventa quasi buddisti, veramente, io lo verrei da bere nelle scuole. Poi c'è questa canuccia qui che è per me, e questa è la canuccia della carogna, così beve anche lei.